Quando lui mi ha chiamato al telefono, mi aspettavo comunque una collaborazione musicale. E tu falmo? No, questa era scontata. E invece non l'ha fatto, forse perché probabilmente sapeva già che non avrei unito la mia musica con la sua. Ok. Forse lo sapeva già, anche perché comunque abbiamo proprio un altro tipo di attitudine diversa, no? E io non l'avrei fatto, se lui mi avesse chiesto di fare un feat, cioè unire le canzoni. Oppure io, lui faceva il ritornello, io dovevo fare la rappata, non l'avrei mai fatto. Invece mi ha sorpreso perché lui si è documentato, ha visto un po' tutti i video e mi ha detto vorrei che tu facessi il video. E niente, poi lì ho collaborato con Nicco e Antonio, è stata una bella esperienza. Poi comunque da lì mi ha detto, vuoi aprire i live negli stadi? E cazzo ne dicevo, no, no, sai. Beh, Gianotti è un altro bel esempio di un artista che dopo aver passato il periodo ufficiale, sballottato a destra e a sinistra dalle produzioni a cecchetto, tutto si è trovato una sua dimensione per fare veramente quello che probabilmente gli piace e sperimentare. Beh, io l'ho fatto perché secondo me è un grande artista, lui è proprio l'icona del pop italiano, lui è proprio pop. A parte che è un vero stacanovista, cioè il tipo si sveglia e pensa a quello che deve fare, come costruire il piano musicale. Beh, anche perché per fare un disco con 30 canzoni dopo tutti questi anni vuol dire che di voglia di fare musica. Beh, a parte che comunque è uscito, ha ucciso tutti, no? Beh, per me è stata anche una bella soddisfazione, lui mi ha messo in mano il primo singolo, no? Certo, caspita. A me è Antonio e Nico di Jonazzo, non è che ha fatto il secondo singolo. Mi siete divertiti a fare una ripresa. Sì, è stata una bella esperienza. Poi abbiamo messo su una bella squadra, ci siamo, penso, secondo te abbiamo fatto anche una bella figura, probabilmente. Beh, sì, sicuramente molto azzeccato il... Sì, ci siamo fatti trovare professionali comunque. Anche i ragazzi Nico e Anto penso siano i videomaker più forti che ci siano in giro adesso. Sì, assolutamente. Sono proprio competenti a livello internazionale.